Ecco cosa dovete fare quando avete il pane duro di qualche giorno. Questo è un pane di tre giorni fa, quindi acqua, pennello, spennellate tutto bene il pane, così, e poi nel forno. Per alcuni minuti forno caldo a 200 gradi controllate, dovete controllare. Questo era davvero molto duro, guardate come è diventato morbido. Guardate che meraviglia. Adesso lo taglio.